Radio Vincent, con Vincent Lyonacht, lampi del pensiero libero e quotidiano. Mi raccomando, carissime donzelle, bellissime fanciulle, donne con la D maiuscola, vere milf stellari, lasciatemi un bel like a questo video. Le mie poesie decantano, oltre l'austero cancello. Con dolcezza e impetuosità, questa è la mia vita in una danza di piena libertà. Sì, si balla euforicamente nell'incommensurabile bello.